Musica Si allarga l'inchiesta sulla Casa Lucirosse scoperta circa un mese fa dai carabinieri del Comando Provinciale nel centro di Isernia e di queste ore infatti l'identificazione con conseguente denuncia di una donna che secondo le risultanze investigative si occupava di reclutare le ragazze da avviare all'attività di prostituzione. Si tratta di una 35enne di nazionalità cinese, come cinese era il quarantenne già finito nella rete dei militari il mese scorso insieme a un cinquantenne Isernino, entrambi ritenuti i gestori dell'appartamento dove venivano fatte prostituire giovani ragazze con tariffe che oscillavano tra i 50 e gli 80 euro a prestazione. La casa di appuntamento, che si scoprì essere molto frequentata tutte le ore del giorno, venne perquisita. All'interno i carabinieri trovarono un materiale grazie al quale sono poi riusciti a individuare la 35enne cinese che è risultata essere coinvolta insieme ai due responsabili dell'attività di favoreggiamento e sfruttamento già denunciati dai militari pentri lo scorso ottobre. Ma le indagini continuano e non si esclude la complicità di altre persone nell'attività illecita. Si è concluso ieri sera con l'assoluzione dei 12 imputati il processo incardinato presso il Tribunale di Campobasso per associazione a delinquere nel mondo della scuola. Erano coinvolti funzionari dell'ufficio scolastico regionale, professori e impiegati. Secondo l'accusa, gli imputati tra il 2006 e il 2009 avrebbero utilizzato fondi destinati a progetti scolastici per scopi personali. Per questo aveva chiesto condanne tra 2 e 7 anni. Ma dopo 4 ore di Camera di Consiglio è arrivata la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Per quanto riguarda l'accusa più grave, quella di associazione per delinquere appunto. Due invece le condanne inflitte per peculato. Per diversi imputati è stata anche sentenziata la prescrizione relativamente al reato di abuso di ufficio. Le motivazioni della sentenza si conosceranno entro 90 giorni. Da tre mesi senza stipendio e con forti preoccupazioni per il futuro, l'avvertenza dei lavoratori della OTI, azienda tessile nata dalle cenere della ITR, è stata al centro di un tavolo tenutosi presso la prefettura di Isernia la presenza dei sindacati di categoria, dell'assessore regionale alle attività produttive, del sindaco di Petto Ranello del Molise, della direzione provinciale dell'Inps e di esponenti delle aziende. C'era anche una delegazione di lavoratori. La riunione è terminata con la sottoscrizione di un verbale per l'esame congiunto finalizzato alla richiesta di cassa integrazione da inoltrare all'Inps al fine di ottenere il predetto beneficio per 13 settimane a decorrere dal 21 novembre. Nel contempo i presenti hanno concordato di intraprendere parallelamente anche il percorso illustrato dall'assessore veneziale che consentirebbe, in presenza dei necessari presupposti, l'accesso alla cassa integrazione in deroga. La riunione è terminata con l'intesa di riconvocare il tavolo tra due settimane. Al via i lavori di miglioramento sismico controllato di un'ala della scuola secondaria di primo grado, Francesco Dovidio, di Campobasso. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per un importo di circa 100 mila euro finalizzato a incrementare il livello di sicurezza e a prolungare la vita residua del fabbricato che i tecnici stimano in 11 anni. In questo lasso di tempo, si legge nella relazione, sarà necessario programmare e procedere ad un nuovo intervento strutturale che aumenti ulteriormente la sicurezza dell'edificio. A breve, ha fatto sapere l'assessore ai lavori pubblici del comune di Campobasso, Pietro Maio, verrà avviata la procedura per l'affidamento dei lavori che dovranno essere completati entro 60 giorni. Al termine saranno disponibili 15 aule. All'inizio del nuovo anno alla provincia di Isernia inizieranno i lavori di efficientamento energetico per la riduzione del consumo di energia elettrica. Una ditta specializzata pugliese, che se è aggiudicata la gara, provvederà all'installazione di lampade a LED. Questo consentirà, ha dichiarato l'assessore provinciale delegato al risparmio energetico Giuseppe Di Pilla, di ottenere una riduzione dei consumi di almeno il 50%. Soddisfatto anche il presidente dell'ente di Via Berta, Lorenzo Coia, che ha ringraziato tutto il personale del settore servizi edilizia scolastica e ambiente e l'assessore di Pilla per l'impegno profuso. Per poter mettere a norma in efficienza i nostri edifici, ha detto, bisognava ingegnarsi e pensare a nuove soluzioni. Fare investimenti con il risparmio energetico è una di queste soluzioni, forse una delle poche rimaste. Ritorniamo sul mercato con quattro nuovi modelli, quattro SUV di dimensione piccola e media. Lo annuncia il patron della DR Motor, Massimo Dirisio, che spiega come l'azienda automobilistica molisana sia pronta al rilancio dopo lo stallo che ha fatto seguito alla vicenda di Termini Merese, quando il progetto di reindustrializzazione della DR Motor sfumò dopo lunghe trattative. Ma adesso, continua Massimo Dirisio, con il supporto dei partner cinesi Yak e Cherry, c'è l'ambizione di raggiungere in Italia una quota di mercato pari al 2% a regime. Per il momento il presidente della DR Motor non può svelare i dettagli del progetto. Si aspetta il grande appuntamento di dicembre con il Motor Show di Bologna per presentare i nuovi quattro modelli. E' qui che nel 2006, dieci anni fa, l'azienda di macchia di Sernia fece il suo debutto. Buone notizie per i cittadini di Sant'Elena Sannita, da qualche anno costretti a spostarsi in località vicine per usufruire dei servizi postali. A breve le cose cambieranno perché il Paese tornerà a riavere un proprio ufficio postale. Lo annuncia il sindaco Giuseppe Terriaca, che commenta Era assurdo che qui mancasse un servizio di tale importanza. Fin dal mio insediamento ho preso a cuore la vicenda muovendomi in tutte le sedi per far sì che si potesse riaprire un ufficio postale in Paese. E finalmente, continua, abbiamo raggiunto il risultato sperato. Superate le prassi burocratiche, tra pochi giorni inizierà a prendere corpo l'ufficio postale in zona centralissima, annuncia il primo cittadino di Sant'Elena Sannita, a pochi passi dal municipio, proprio laddove un tempo sorgeva l'ufficio postale. Domenica prossima, 20 novembre, giornata ecologica nell'area Sic di Montevairano. Qui, nel bosco, è stata di recente individuata una discarica abusiva di pneumatici e rifiuti vari. Per questo, l'associazione Fare Verde ha inteso promuovere l'iniziativa in collaborazione con altre associazioni ambientaliste di Campobasso in occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Nell'ambito del progetto, azione e integrazione, insieme agli ambientalisti ci saranno anche i migranti e ospiti del centro di accoglienza straordinario di Campobasso. L'appuntamento è fissato per domenica prossima, a partire dalle 9.45, lungo la strada che conduce alla zona di Monte Vairano. È tutto pronto per la tradizionale festa del tennis molisano in programma per il prossimo 3 dicembre. L'edizione 2016 si svolgerà dalle 17 presso i locali dell'associazione Tennis Campobasso in via Duca d'Aosta. Come di consueto, la manifestazione prevede il riconoscimento e la premiazione degli atleti che si sono particolarmente distinti durante la stagione agonistica che sta per terminare, alla presenza dei vertici FIT, CONI e di autorità politiche cittadine e regionali. Quest'anno ci sarà anche un ospite d'eccezione, Nicola Pietrangeli, campione italiano del tennis anni 60, con l'attivo due vittorie del Roland Garros, due internazionali d'Italia, raggiungendo la posizione numero 3 al mondo del 1959. Detiene attualmente il record di numero 1 di titoli italiani assoluti in campo maschile, per questo è considerato il più grande tenista italiano di sempre. Grazie a tutti i nostri spettatori,